Ho fame Questo va negli tagli Tanto prima o poi lo farai lo sotto Sì, sì Ciao, vieni qua Ma mi culo È il tuo fratello, eh? Sì, è molto simpatico Sì, guarda, così è proprio bella È proprio, secondo me, la sua inquadratura È schifo Dai, muovi Che non funziona più Seri, per favore, eh? Sono ancora più bassi Attenzioni, retroscena No, no, no Ma c'è questo che è sempre fatto apposta Con le cose Ecco gli stratagemmi che usa Tom Cruise Per baciare gli old Nicole Kidman È vero, eh? È vero Cazzo, Nicole Kidman è 1,80 Ah, che bello Ah, che bello Ah, che bello Ah, che bello Ti sento conto che hai l'occhio quello sopra Sì, queste qua non ci sono No, 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 no. Vai a andare? Ma che sei? Non caccia. Uuuuh, come se pensi io. La sofferenza di questo uomo. Fuuuh, ma com'è? «Quem fa' dolore?» Che fa' giù è lì... Riottini... Ecco, ecco, ecco. Ho inizio che parare. Non non le ho. Non lo vedi! Che... il polvo la sette hai lupa? nooo non è che è così non mi sento che sta male guarda come sei bello già non stiamo facendo quello che dobbiamo fare Tommaso riprende Meraldo Tommaso recita ecco qua sale verso il monte questo posto domenica mattina è un tipo vestito bene con un fa hai gattonato un sacco dovrete durare ancora un po' allora vedi un altro po' siete un po' in mezzo alle pallucle ok allora Tommi tu adesso sei girato in l'asta stai guardando dov'era prima lei e ti rigiri guardando un po' rassegnato verso ok tu guarda Tommi con un posto stai guardando lì stai guardando lì stai guardando lì e adesso lo spaventiamo mettiamo i vio tutti stai guardando lì c'è una scuola e adesso sta andando un'esercito e il raro Oh, è successo Ok, ah, c'è con gli almo là, guardatelo, che bello Corri Alex, corri È mio, è tuo, è buio Oh, è stupido Oh, è andato troppo indietro Oh, è comunque sono bella Fai un balletto Noi, non, 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 non... Non puoi capire Sarebbe beccissimo fotografarla così e farla saltare penso che vada bene giusto? va benissimo in questa nuova puntata di super quark venderemo delle pietre, delle pietre sul fore, calcare, arenare possiamo notare una muffa sul giallo, giallognolo verde, verdastro chiaro ma comunque sul giallo paglierino ricordiamoci le origini di queste pietre tagliate su marmo cuocente da anni e anni e anni invece da questa parte qua troviamo un ficus ficus molto ficco che è una pianta praticamente molto bella che si ritrae in questa specie di foglia a forma di foglia appunto una foglia molto fogliosa, fogliante e cartaceamente organolettica anche lei l'ultima offerta del giorno è una specie di dic dicis dic tutum proveniente dal latino antico che significa cane è praticamente un cane che si presenta con delle forti forti colorazioni bianche e nere, nere o bianche praticamente di cromatico e si alla sua destra possiamo vendiamo anche l'ultimo l'ultimo esemplare di Sebastianus Sebastianus De Chitarriscus un tipo di chitarrista molto organolettico anche lui e che si presenta con una rarefatta ah c'è la pubblicità, c'è la pubblicità, rimanete con noi ho schiacciato il tasto sbagliato e adesso sto riprendendo me stesso invece che quello che sta succedendo guarda eh ciao Tommy, un saluto da Seba ciao ciao